Paparapara paparapà Paparapara paparapà Paparapara Paparapara Tuh, tu, tu Otanta seiesi a puntata del Robby Ballet Show Olè, olè, olè il Robby Ballet Show Olè 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 il Robby Balle Show Olè 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 il Robby Balle Show C'è il campo olè olè c'è il campo olè olè Allora, tanti, ma tanti, ma tanti, ma tanti auguri a tutte le persone che mi vogliono bene, veramente, e alle loro famiglie per un splendido Natale e un radioso anno nuovo. E con questo vi racconterò la mia grandissima esperienza che ho avuto nel 2017 anni fa, sì, sì, nel 2017 anni fa ero presente anche io alla nascita, sì, sì, eravamo là tutti quanti in fermento, in grande attesa, e ragazzi, io ero là con il mio gruppo, la Curva Nord Betremme, sì, 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 la Curva Nord Betremme, e c'era anche, addirittura, presente con un altro piccolo gruppo, che non c'entra niente, però era presente anche lui, Beppe Grillo, sì, con il movimento Una Stella, sì, Una Stella Cometa, esatto. E quando è nato, è stata grande festa, grande festa, ragazzi, cioè, veramente, abbiamo lanciato fumogeni, petardi, triche ballacche, e tutte quante, abbiamo iniziato a cantare i cori, Gesù Cristo, uno di noi, Gesù Cristo, uno di noi, Gesù Cristo, uno di noi, Grande festa, eravamo in circa 25.000 persone, e poi dopo c'è stata musica per tutta la notte, guardate ragazzi, la più grande festa che sia mai successa per il grande avvento avvenuto 2017 anni fa, eh, Abbiamo cantato anche E Gesù Cristo faccio un go, e della Curva Betremme, e della Curva Betremme che te lo chiede, ale, 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 grazie, grandi, grandi feste. Approfitto dell'occasione per salutare i tre miei carissimi colleghi dell'Iveco di Brescia, Gianfranco, Franco e Massimo, che vi seguono con tanta, con tanta e tanta passione. Adesso Il Brescia inserirà, ole, 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 il Brescia inserirà, ole, 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 il Brescia inserirà, ole, 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 il Brescia inserirà, tanti auguri di Buon Natale a tutti, ed un felice e radioso anno nuovo da parte mia. Ole, 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 il Rompipale, ciao! Ciao! Ciao!